La Regione ha approvato lo slittamento della nascita della cosiddetta Nuova Pescara. La fusione tra Pescara, Montesilvano e Spoltore, legittimata da un referendum consultivo nel 2014, non dovrà più avvenire entro il prossimo anno, ma entro il 2023 o nel 2024, se almeno due terzi dei consiglieri dei tre comuni dovessero decidere per il rinvio. E giusto così, dicono gli amministratori, il rinvio è a causa Covid. Lo slittamento è derivato dal fatto che quest'anno le attività sono state concentrate soprattutto sul discorso Covid, perché questo è stato un anno particolare, quindi il discorso che hanno fatto in Regione di posticipare di un anno questo termine intermedio per permettere ai comuni di recuperare quelle attività che non sono state svolte a causa dell'emergenza Covid, mi sembra che sia una cosa assolutamente logica. Il termine del 2024 invece rimane tutto ed è l'ultimo termine entro cui dovrà nascere la Nuova Pescara. Rinviarle di un anno secondo me è stato saggio e poi credo che questo anno possa essere utile a capire quali sono stati i meccanismi che hanno fatto sì che questa fusione non progredisse. Inizialmente il comune di Spoltore era tra i più scettici riguardo la fusione. Il sindaco aveva proposto anche un nuovo referendum così da restituire la palla ai cittadini. Oggi però ha cambiato idea, non vogliamo un nuovo referendum, dice Di Lorito, ma la legge regionale va migliorata. Questo anno serve a capire dove si può migliorare questa legge regionale per far sì che i tre comuni diventino una unica realtà. È chiaro che ci aspettiamo che questa legge produca benefici per la città di Spoltore, quindi noi siamo guardinghi rispetto a questo. C'è una fusione che deve produrre benefici rispetto a quello che abbiamo oggi. Non pensiamo e non dobbiamo far sì che invece i cittadini di Spoltore stiano peggio di come stiano adesso. C'è una legge, c'è stato il referendum e ora il processo di fusione non può essere fermato, ribatte Masci. Tra i tre comuni c'è collaborazione. Ognuno ha le sue idee specifiche, ma questo non vuol dire che non si remi tutti nella stessa direzione per fare in modo che ci siano sicuramente in queste tre realtà che oggettivamente i cittadini vedono come un'unica realtà dei servizi erogati in maniera congiunta, delle attività fatte insieme, in modo da ottimizzare le attività che dovranno essere svolte.